Giornata internazionale della donna L'8 marzo è la giornata internazionale della donna, nata in ambito socialista, dedicata in origine alle battaglie di cui le donne furono protagoniste all'inizio del novecento. Aveva un potente significato sociale, politico, di opposizione al potere. A tal proposito noi volontari del Servizio Civile Universale, Centro Studi Futura, Sede di Caserta, ovvero Andrea Capasso, Emma Leardi, Marilena Loffreddo e Sipesterita, abbiamo realizzato un tributo a Emeline Pakistan, un'attivista politica britannica che ha combattuto affinché fosse concesso il diritto di voto alle donne, fino ad allora escluso. La sua battaglia è stata vinta nel 1918. Noi donne di oggi dobbiamo molto a Emeline per ciò che ha fatto e per averci aperto la strada a nuovi traguardi di parità di genere. Emeline nasce il 15 luglio 1858 in una famiglia dell'altra borghesia. All'età di sette anni circa, nella tranquilla vita di Emeline, accade qualcosa che divenne la minaccia per far partire il suo motore. Divenne il suo obiettivo primario, quello di raggiungere a qualsiasi costo. Una notte, mentre erano nel suo letto, i genitori le si avvicinarono per darle a buona morte e il padre, convinto che le stesse dormendo, le dava un bacino della buona morte e sussurrò se fossi un maschio. Da quel momento, nella visione di Emeline, fu chiaro che nella società la donna non era abbastanza importante, che essere donna era considerato quasi una sventura, perché non avrebbe potuto comunque fare tante delle attività professionali, politiche, sociale e personale che erano concesse agli uomini. Si sentì quindi chiamata a difendere i diritti delle donne. L'anno dopo il completamento dei suoi studi, conobbe quello che poi sarebbe diventato suo futuro marito. Emeline parlò col marito dei suoi sogni e due conici si impegnarono subito in favore dell'uvaianza politica delle donne. Il promotrice di vari gruppi diede un grosso contributo all'ottenimento del diritto a voto per donne nelle elezioni locali. Nel 1903 fondò l'Unione Sociale Politica e Femminile, come principale obiettivo l'estensione del suffraggio alle donne. Nel 1905 fu condannata e imprincionata per aver interrotto una riunione del Partito Liberale, chiedendo che venisse posto in discussione il tema caldo del diritto di voto alle donne. Il movimento si proponeva come forza esterna alle formazioni partitiche e spesso fu a questo contrapposto. In particolare le suffragette combattevano una dura battaglia ideologica nei confronti degli esponenti liberali, considerati il principale ostacolo per l'attuazione delle proprie rimendicazioni, ed erano invece vicine al Partito Laborista Indipendente, cui si appoggiarono politicamente. I metodi di protesta del movimento divennero sempre più disasperati, a volte violenti, provocando la distruzione di edifici pubblici, con conseguenti reazioni in totale disapprovazione a parte delle autorità. Nel maggio del 1914 Emlin viene nuovamente arrestata, questa volta mentre tenta di portare una petizione al Re Giorgio V. Poco dopo scoppiò la Grande Guerra, con le sue inevitabili ripercussioni in ambito umano, politico e sociale, e questo fece sì che le suffragette, in cambio della liberazione di tutte le detenute per reati politici da parte del governo inglese, sospendessero la propria battaglia. In quegli stessi anni l'infaticabile Emlin continuò a portare avanti i suoi ideali, promuovendo una grande campagna di sensibilizzazione sul tema del suffragio universale in altri paesi, come gli Stati Uniti, il Canada e la Russia. Al suo ritorno in Inghilterra le autorità avevano già concesso il diritto di voto alle donne a partire dal 1918, ponendo fine ad una sacra lotta del genere femminile per il riconoscimento della parità dei diritti. Nel 1926 Emlin riprese ad occuparsi attivamente di politica la vera passione della sua vita, stavolta accanto ai conservatori. Morì nel 1928 a Londra, le sue tre figlie, Cristabel, Silvia e Adela continuarono la lotta iniziata dalla madre.